Cosa Nostra ha perso la signoria territoriale e oggi è costretta a un regime di convivenza con i clan nigeriani. E' questo uno dei dati più significativi della relazione semestrale della DIA per Umberto Santino, sociologo responsabile del centro di documentazione Peppino Impastato che da anni studia il fenomeno mafioso. In Sicilia la coesistenza di diverse matrici mafiose, scrive la DIA, sia autoctone che allogene, si fa convivenza laddove sullo stesso territorio si giunge ad accordi utilitaristici in uno o più settori di cointeressenza, confermando ulteriormente la tendenza già emersa in passato a rinunciare alla violenza e ai conflitti cruenti in favore di una predilizione per gli affari. In questo ambito rappresentano un quid novice i rapporti con le mafie nigeriane, soprattutto nella città di Palermo dove i sodalizi centroafricani sembrano avere acquisito un vantaggio competitivo nel settore degli stupefacenti. I nigeriani sono in grado di governare l'offerta e la domanda, i flussi di sostanze stupefacenti e soprattutto i cospicui proventi derivanti da un mercato che si conferma tuttora fiorente nonostante la pandemia. Resta però una incertezza nella strategia giudiziaria di approccio alle mafie straniere che spesso impedisce di imbrigliare la pericolosità. Noi, spiega Santino, ci siamo costituiti parti civili in un procedimento alla mafia nigeriana. Questi criminali avevano subito un processo con rito abbreviato ed è stata riconosciuta l'associazione di tipo mafioso. In un processo con rito ordinario invece questa non è stata riconosciuta. È la stessa incertezza che si è manifestata con Mafia Capitale. Il motivo è che la legge sulla mafia del 1982 è siculocentrica, nata soprattutto con riferimento alla realtà siciliana e poi estesa ad altre organizzazioni similari. Quanto alla leadership di Cosa Nostra di cui parla la relazione della DIA, per Santino bisogna chiedersi piuttosto perché non viene preso visto che la sua latitanza rischia di durare più di quella record di Bernardo Provenzano, il super latitante Matteo Messina Denaro. Cosa Nostra è in difficoltà. Ha subito una laicizzazione in base alla quale i suoi membri non la vedono in modo sacrale e spesso collaborano rapidamente con la giustizia. Ma non ha subito una mutazione antropologica. Vero è che con la violenza non si riesce più a palesarsi, ma non è detto che non esista. Basta che venga minacciata con l'intimidazione. E i rapporti con la politica, il referente di quel mondo, è oggi un punto interrogativo, ma la mafia resta in attesa di sapere chi sarà.